Dopo la denuncia del SAP, il sindacato della Polizia Penitenziaria su una serie di episodi definiti critici registrati nel carcere minorile di Airola, teatro anche di atti di autoresionismo e tentativi di aggressione che hanno creato non pochi problemi alla Polizia Penitenziaria, è intervenuto il garante campano dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Samuele Ciambrillo, che immoca maggiori programmi educativi per i detenuti affinché possano non solo espiare la pena ma anche reinserirsi. Inutile a tuonato Ciambrillo trasferire da un carcere all'altro i detenuti definiti problematici. Un patto educativo per questi ragazzi non è che se c'è un problema per un minore o per un adulto usiamo o violenza o pensiamo di ristabilire l'ordine e la sicurezza trasferendoli in un altro dei 17 carceri minoriti. Noi non dobbiamo fare tante iniziative per intrattenere i ragazzi, dobbiamo fare tante piccole iniziative per aiutare i ragazzi a liberare le loro energie e anche a fargli capire la responsabilità del reato che hanno commesso. Con il garante della regione dei detenuti il punto anche sulla situazione nelle carceri campane. Un sovraffollamento, un caldo affuso, un caldo che a persone anziane non può aiutare. Io ieri ho incontrato a Poggio Reale una persona di 91 anni. Il carcere non può essere una risposta semplice a bisogni complessi.